benvenuti benvenuti a questa puntata di oggi stampa evangelo una puntata un po buia vedo che non c'è una grande illuminazione mi scuso però spero che con il tempo si possa migliorare lasciato una fonte di luce spenta e quindi vabbè tanto non c'è anche da vedere più da sentire facciamo radio oggi con un'immagine così un po buia volevo ringraziarvi intanto siete in tanti subito angela ciconte meri rossi maria rosa ferraresi francesca centofanti stefano tommaso che annuncia che verrà ad ascoltarmi a forlì il 22 ieri non è potuto essere presente né a cesena nei giorni precedenti a rimini a ravenna c'è vittoria polacci federico pieroni monica consigliere marco pennetti ombretta ritolfi allora un grazie davvero a tutti le ultime due puntate di stampa evangelo hanno fatto registrare 22 mila persone più di 22 mila persone a seguirle ed è un numero straordinario grazie davvero non riesco a tenere la programmazione quotidiana perché come avete capito sono in giro tutto il tempo sono orientato stanotte tardi a roma da cesena dopo aver fatto un'iniziativa a cesena strapiena alla sala del palazzo del ridotto tantissime firme raccolte grazie 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 davvero alla romagna sono stato a cesena sono stato a ravenna sono stato a rimini come sapete ho parlato in chiesa rimini è impressionante il bagno di folla diciamoci la verità tantissime persone a seguire le nostre iniziative non so dire perché cosa devo dirvi scusate intanto il ritardo ecco una cosa devo dirvi sono arrivato tardi perché arrivano sempre ogni minuto in pratica quesiti sulla raccolta firme su alcuni dettagli formali è arrivato anche eh Filippo Grigolini che mi ha appena postato eh la pagina del quotidiano l'arena il quotidiano l'arena non è un quotidiano che simpatizza per noi è il quotidiano più letto a Verona che non ha potuto che fare un articolo che titola boom di firme per il popolo della famiglia a Verona boom di firme pensate in sei ore gli amici di Verona hanno raccolto cinquecento firme cinquecentocinque firme per il loro collegio eh in sei ore di lavoro cinquecentocinque firme una fila eh infinita eh ai nostri eh gazebo a Verona e il limite minimo come sapete trecentosettantacinque ma in appena sei ore di lavoro i veronesi hanno già abbondantemente travalicato il limite minimo e volano verso il limite massimo che è di duemila firme lo ricordo il limite massimo è duemila firme e quindi io metto insieme questi numeri i ventiduemila a gli oltre ventiduemila persone che seguono stampa e vangelo nelle ultime due giornate eh registro file ovunque il caso di di Verona è eclatante talmente eclatante che sul quotidiano locale l'arena di Verona oggi che ripeto non è un quotidiano nostro simpatizzante eh il titolo inevitabile è con un articolo apposito boom di firme per il popolo della famiglia e dunque complimenti a tutta la squadra a Filippo Grigolini Antonio Zerman eh e davvero tutti gli amici che stanno a Verona facendo questo risultato che un'immagine straordinaria una vetrina straordinaria per il lavoro che sta compiendo il popolo della famiglia su tutto il territorio nazionale e che fa capire come sia abbastanza agevole nonostante devo dirvi l'astrusità assoluta che avete letto tutti abbiamo fatti i moduli insieme stiamo continuando a correggere lo ripeto sono arrivato tardi ehm nella compilazione firme e nella diretta di oggi perché c'erano degli errori sulla compilazione firme ehm vedo che mi parlano di ex esponenti di sell candidati nel pdf non c'è nessun ex esponente di sell candidato nel pdf sono leggende se uno mi porta la tessera di sell di una persona candidata nel pdf allora ne riparliamo se uno racconta che una volta visto a cena anni fa con un esponente allora quelle sono chiacchiere se uno mi porta un esponente di sell con un link a una qualsiasi riferimento pubblico e questa persona fosse esponente di sell ne riparliamo se nel passato di una persona come può essere nel mio per esempio nel mio c'è stato il pd sicuramente se oggi questa persona è con il pdf noi siamo solo lieti che sia col pdf questo per sgobrare il campo dalle prime bugie che nonostante tutte le benzogne che volete inventarvi è inutile fare questo tipo di gioco il popolo la famiglia è più forte di qualsiasi menzogna hanno detto adinolfi è contro no non è contro l'aborto sono stati capaci di scrivere addirittura questo leggiamo insieme non capiamo moriamo leggiamo insieme tre anni di quotidiano la croce leggiamo insieme il programma del popolo famiglia che parla di abrogazione 194 non inventiamo puttanate ok intanto con le puttanate il pdf non lo abbattete perché ci sono i numeri che parlano per il pdf il popolo la famiglia è ovunque in campo per fare una battaglia difficilissima a partire dalla clamorosa dico clamorosa difficoltà con cui hanno inventato i moduli per le firme signori ma avete visto voi i codici alfanumerici sb 0 1 sp 0 1 trattino basso e e tutte le difficoltà incredibili incredibili che sono state costruite per impedire la la presentazione del popolo la famiglia perché avete capito che l'altra difficoltà era per emma bonino e la difficoltà di emma bonino gliel'hanno risolta regalandole un simbolo farlocco di bruno tabacci e così si presenta senza raccogliere le firme emma bonino quella che ha fatto la storia d'italia ministro degli esteri con tutti i soldi di soros non riesce a prendere le firme non riesce a prendere le firme ora figuriamoci una che fa il ministro per ed è in parlamento del 78 re della rottamazione matteo renzi che ci riporta in parlamento una che in parlamento dal 78 40 anni di parlamento adesso non riesce neanche a raccogliere le firme però gli regalano il simboletto di bruno tabacci così non le deve raccogliere noi invece dobbiamo stare per strada al freddo di gennaio e fare tutti da varese a catania questo lavoro incredibile ma lo facciamo con gioia e troviamo le persone in fila ai nostri gazebo nelle nostre iniziative per firmare il popolo la famiglia ne servono minimo 25.000 ripeto 22.000 hanno seguito due puntate di stampa e vangelo 505 hanno firmato in sei ore da filippo glicolini antonio zerma in tutta la squadra di verona nei gazebo veronesi i giornali non possono fra l'altro che scrivere boom di firme del popolo della famiglia quindi inventarsi bugie vuol dire semplicemente cercare di mettere i bastoni fra le ruote a una cosa che va e allora non inventate le bugie che sono veramente stupidaggini stupidaggini allora lavorare come dice filippo glicolini con la sua concretezza tutta veneta e allora forza lavorare fare le firme raccogliere zero polemiche come dice filippo diamo retta a quelli ad in orfi non è contro la 194 questo mi manda i pazzi che se c'è una vita dedicata sono andati a prendere un angolino di voglio la mamma prima edizione in cui avrei scritto non so cosa sul fatto che non sono pienamente abrogazionista e che quindi considerei oscurantisti espressione folle quelli che sono contro la 194 ragazzi c'è scritto o capiamo moriamo o capiamo moriamo sono 207 pagine ci sono tre anni più di tre anni ormai siamo nel quarto anno di quotidiano la croce ma basta prendere un qualsiasi mio articolo basta prendere un qualsiasi riferimento all'aborto su o capiamo moriamo basta basta bugie signori volete il male del pdf va bene capisco che per attaccare il popolo la famiglia è facile attaccare il sottoscritto inventando puttanate però mantenete un livello di dignità perché altrimenti si scopre il gioco volete far votare tizio gaio sempronio fatelo apertamente dite voglio vogliamo votare per forza nuova come dice questo soggetto oppure per il cento testa fate la vostra battaglia ma fatela lealmente perché inventarsi le bugie è davvero qualcosa di triste e menzognero perché poi dovete confrontarvi con la verità dei fatti con il programma del popolo la famiglia con un libro di 207 pagine che non è stato scritto ieri per confutarvi è stato scritto tempo fa e ci hanno decine di migliaia di persone in mano e posso andare a leggere cosa pensa maria di norfi dell'aborto quindi è inutile fare questo tipo di lavoro perché il lavoro tra l'altro è inefficace come vedete i numeri parlano per noi i numeri stanno parlando per noi è tornata la voce è sparita la luce dice federico pieroni questo è vero non so perché c'è un punto di illuminazione tutto sul sull'angelo e sulla piccola novità che spero che avete abbiate notato che è un crocifisso che mi hanno regalato degli amici del popolo della famiglia molto bello un crocifisso che viene da meggiugorie ed l'ho trovato davvero un imponente nella sua bellezza e quindi ho deciso di posizionarlo accanto all'angelo giustamente la luce adesso è andata tutta lì è andata tutta sul crocifisso che è a fianco all'angelo che vi accoglie in ogni puntata di stampa e vangelo che devo dirvi se devo stare in ombra io e stare in luce un crocifisso va bene così che dite va bene così no e allora grazie davvero che l'angelo splende lo vedete l'angelo splende ed è un elemento di accoglienza per tutti voi e allora cominciamo come sempre stampa e vangelo con la lettura del vangelo del giorno che è un vangelo ovviamente straordinario come sempre serve luce niente luce sul mio volto la luce arriva dalla parola dalla buona novella e sentite il vangelo di oggi davvero quanto è illuminante per il nostro lavoro siamo nel vangelo di marco come sapete il mio vangelo preferito quello che consiglio sempre per avvicinarsi alla lettura del vangelo 80 minuti che vi possono cambiare la vita siamo il secondo capitolo del vangelo di marco in quel tempo i discepoli di giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno si recarono allora da gesù e gli dissero perché i discepoli di giovanni e discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano gesù disse loro possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vessito vecchio altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore e nessuno versa vino nuovo in otri vecchi altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri ma vino nuovo in otri nuove ma quanto è bella la parola di oggi la parola di oggi quanto è perfettamente collocata per dare forza e speranza al nostro lavoro sembra davvero che qualcuno ci stia guidando passo per passo con la sua mano a dire fai quello che occorre fare affinché il vino nuovo sia in otri nuove non fate non fate l'errore di fare il rattoppo sul vestito vecchio e noi non possiamo che prendere questa parola daniela scavolini la nostra amica di pesa lo dice sempre questo è quello che dico io da sempre il popolo della famiglia siamo vino nuovo vino nuovo in otri nuovi c'è marzial muster che ho conosciuto ad ascoli altro amico marchigiano che saluto molto volentieri federico pironi dall'umbia massimiliano esposito dalla lombardina dalla lombardia che dice siamo anche il vino buono oltre che nuovo io voglio solo dirvi questo la parola ci dà aiuto e luce per la strada complessa che stiamo affrontando tanto arrivare un'altra eroina del lavoro veronese francesca patuzzi che saluto con un abbraccio basta pezze sui vestiti vecchi cita ancora daniela scavolini saluto mauro turrini eroe di riolo dove il pdf ha preso il 14 3 per cento non dimentichiamocelo mai è che noi quando ci dicono quelli di pr marketing che abbiamo un potenziale del 13 per cento ricordiamo che noi quel potenziale lo abbiamo già persino superato in alcune realtà amministrative cito goito con il 14 8 per cento visto c'è massimiliano esposito anche lui protagonista di quella vittoria e c'è riolo col 14 3 per cento quindi risultati di estrema rilevanza come capite e dunque i dati di pr marketing primo sondaggio che ci ha dato all'1,5 per cento di raccolta consenso in questo momento e al 13 per cento di potenziale sono stati anche confermati dal nuovo dato dal dato dal dato del sondaggio di xe il sondaggio di xe lo troverete domani sul quotidiano la croce ricordo sempre dare un aiuto al quotidiano la croce significa aiutare anche questo nostro faticosissimo sforzo che è anche onerosissimo e quindi se fate e date un aiuto al quotidiano la croce abbonandovi e facendo abbonare gli amici fate un lavoro importante in cambio noi facciamo tanta informazione domani sul quotidiano la croce troverete questo nuovo sondaggio di xe che ci dà al 2 per cento altra cosa importantissima il potenziale ce lo segna voglio darvi il dettaglio perché ho fatto fare una cosa approfondita in quel caso il 68 per cento degli italiani non conosce oppure non vuole sentir parlare cioè non ci sopporta del popolo della famiglia 68 per cento c'è poi un 32 per cento che prende in considerazione secondo xe il voto al popolo della famiglia con diverse gradazioni ho fatto fare un lavoro molto specifico a xe che come sapete è una casa di rilevazioni nemoscopiche importantissima lavora con la rai lavora con tante testate con huffington post e allora il 68 per cento non vuole sentir parlare del popolo della famiglia oppure non lo conosce questo è un pezzo d'italia a cui non arriviamo c'è poi un 32 per cento che prende in considerazione il voto al popolo della famiglia di questo 32 per cento io escludo ancora una fetta loro hanno fatto tutta una gradazione quelli che lo considerano al 10 per cento come ipotesi al 20 per cento al 30 per cento al 40 per cento io fino al 40 per cento non considero probabile il voto al popolo la famiglia quindi lo escludo dal potenziale che sarebbe in teoria del 32 per cento ma non vogliamo farci illusioni se uno dice che ho il 10 per cento di possibilità di votare pdf con ogni probabilità alla fine non lo voterà e allora io escludo dal potenziale un segmento che va diciamo dall'1 per cento al 41 per cento di probabilità di scelta del popolo della famiglia quelli però che vanno dal 41 per cento in su sono oltre il 13 per cento quindi il nostro potenziale secondo xe che conferma il dato di ipr marketing va oltre il 13 per cento se noi potremmo arrivare al 13 per cento se prendessimo tutti i voti di tutte le persone che hanno detto di avere un 41 per cento in su di probabilità di scelta per il pdf in questo momento ovviamente io non voglio illudere nessuno noi non prenderemo il 13 per cento perché non li convinceremo tutti ma basta convincerne lo ricordo la metà della metà se noi facessimo la metà della metà del nostro potenziale fate il conto matematico sapete che sono un malato di numeri 13 diviso 2 fa 6 virgola 5 diviso 2 ancora fa 3 virgola 25 per cento dunque il nostro obiettivo minimale che davvero possiamo considerare la nostra portata è la metà della metà del potenziale che ci viene riconosciuto sia da ipr marketing che dall'indagine di xe 3 virgola 25 per cento è il superamento dello scoglio del 3 per cento questo vorrebbe dire l'elezione pensate un po di oltre 30 parlamentari del popolo della famiglia con il 3 virgola 5 25 per cento su 945 che sono gli eletti al parlamento noi avremmo 30 parlamentari del popolo della famiglia quindi signori questo vorrebbe dire chiudere la stagione delle leggi contro la vita e contro la famiglia e aprire probabilmente la stagione del reddito di modernità del quoziente familiare della libertà scolastica del contrasto alla cultura dell'aborto e dell'eutanasia concretamente non con le chiacchiere non con le petizioni online non con la convegnistica cattolica ma con la presenza in parlamento di decine di parlamentari che cambierebbero radicalmente la storia d'italia e porterebbero l'italia nel campo della polonia dell'ungheria della russia putiniana di quelli che stanno a difesa della natalità della famiglia della vita in questo mondo e non con germania francia gran bretagna e spagna che invece sono della cultura omosessualista e della morte che noi contrastiamo voi capite che il contrasto reale a queste normative si fa stando dove si fanno le norme cioè in parlamento l'appello che rivolgo è a un'unità sostanziale attorno al popolo della famiglia che è l'unico soggetto politico organizzativamente in campo perché le chiacchiere sono belle abbiamo sentito decine di diverse sigle avvicinarsi a noi chiedere di fare l'accordo la federazione poi però al momento della raccolta firme quando bisogna contare i numeri c'è sta solo il popolo della famiglia in campo gli altri fanno chiacchiere convegni e si trovano in 30 noi abbiamo 25 mila soldati in questo momento dispiegati a fare la battaglia sul territorio da bolsano a siracusa questa è la differenza sostanziale per fare questa battaglia poiché siamo in guerra servono i soldati e servono i soldati che si mettono a testuggine cioè che non conta la faccia che si fa vedere conta solo l'esercito in campo la battaglia che facciamo a protezione del soggetto che è alla nostra destra fratello in battaglia con noi il fatto statistico altra cosa estremamente rilevante estremamente rilevante è la provenienza dei voti al popolo della famiglia anche questo fatto sondare da XE per capire se era vera l'altra grande menzogna l'altra grande menzogna che noi stessimo indebolendo il centrodestra e dunque facendo un favore a centrosinistra e 5 stelle altra enorme menzogna testimoniata da una tavola che vi ha già pubblicato online e pubblicheremo domani sul quotidiano la croce stefano gardini dice 20 parlamentari perché il popolo nazionale incide solo su due terzi dei parlamentari non è così stefano perché siccome non tutte le liste fanno il 3 per cento c'è anche un recupero di quelli che si chiamano i resti quindi in ogni circoscrizione partiranno dei resti e noi dunque otterremo anche dei parlamentari che si chiamano di resto e di quoziente a seconda di come si dislogheranno i voti adesso sono questioni di calcolo tecnico però è realistico che noi possiamo arrivare a 30 parlamentari grazie ai resti in tutta italia su camera e senato ovviamente quindi questo per dare il quadro complessivo dicevo la provenienza del voto altra bugia colossale ha stato in campo indebolito il centrodestra ho chiesto a XE di fare un quadro da dove arrivava il voto al popolo la famiglia noi abbiamo uno zoccolo duro nostro che viene dall'astensione cioè da gente che non votava più non proviene dagli altri partiti ed è la maggioranza delle provenienze cioè a termini di maggioranza proveniamo da un'area di non voto agli altri partiti per quanto riguarda invece le provenienze avete visto la tavola lo 0,1 per cento viene ci viene aggiunto da forza italia lo 0,2 per cento dal cento sinistra lo 0,2 per cento dal movimento cinque stelle lo 0,2 per cento dalla fratelli d'italia lo 0,3 dalla lega questo è il range di provenienze c'è anche uno 0,1 per cento dai cosiddetti altri partiti immagino forse tipo casa pound o roba del genere questa è la provenienza del voto al pdf dunque un segmento rilevante totalmente nostro che proviene dal campo e l'astensione chi proviene da altri partiti proviene con questo range che è totalmente trasversale come avete capito lo ripeto e porta il nostro potenziale al 2 per cento dice x e non 1,5 come dice ipr marketing ma 2 per cento allora questa puntata io vi prego davvero fate un mi piace un mi piace alla diretta è necessario per tutelare il nostro algoritmo condividete questa diretta sul vostro profilo facebook invitate i vostri amici a seguire la diretta perché questi fatti sono incontrovertibili come sempre sono dati non si possono contestare li conoscano tutti fate riconoscere a tutti attraverso questa diretta non è vero che popola famiglia ha candidato esponenti di sel puttanata totale non è vero che maria di nolfi è a favore dell'aborto roba proprio che è surreale totalmente surreale menzogna surreale e andiamo a leggere basta leggere o capiamo moriamo tre anni di quotidiano la croce è la battaglia che tutti questi anni è stata compiuta e la menzogna insolente si rivolge ai calugnatori come calugna e poi vedremo cosa farne di quelli che calugnano ma soprattutto la menzogna più rilevante il pdf è in campo per indebolire il centrodestra il pdf è in campo per portare decine di parlamentari a essere forza determinante a difesa dei principi essenziali e non negoziabili perché altrimenti nessun altro li difenderà e dunque il campione di xe la rilasione statistica mille intervistati su tutto il territorio nazionale spalmati ovviamente in campione statistico per fascia d'età e per provenienza geografica e la dimostrazione plastica che i voti li prendiamo al pd al 5 stelle certo qualcosina anche a forza italia a fratelli d'italia e la lega perché questo è ed è rappresentato plasticamente il nostro voto è un voto trasversale non rubiamo a nessuno prendiamo tantissimo dall'astenzione prendiamo tanto ovviamente da tutti gli altri partiti perché siamo in concorrenza con tutti gli altri partiti ed esprimiamo un patrimonio di valori che in tutti i partiti per come elettorato è presente che noi riusciamo ad attrarre essendo netti su questi valori questo è il lavoro che stiamo compiendo ed è un lavoro che preso che presume che la prossima volta che si voterà su una legge come le dat disposizione anticipata di trattamento ultima legge votata alla camera dei deputati in questa legislatura io ve lo ricordo sempre la stragrande maggioranza degli eletti di centrodestra non ha votato contro le dat la stragrande maggioranza su 50 membri del gruppo di forza italia hanno votato contro le dat in 12 su 50 membri su 19 membri della lega hanno votato contro le dat in 6 e su 11 membri del gruppo di fratelli d'italia in 4 quindi signori se voi volete avere gli ambigui sui valori quelli che alla fine vanno certo da votare vanno certo da fare la battaglia non ci stanno perché 12 votano contro ma su 50 di forza italia 38 si fanno di nebbia allora se volete quella roba là vi votate quella roba là poi l'esito della legislatura sarà come quello del 2013 cioè voteranno tutte le leggi porcata in condizione di larga intesa con i voti determinanti di centrodestra a sostegno delle politiche mortifere di centrosinistra o del movimento 5 stelle se volete invece difendere questi valori i nostri valori i principi essenziali avete una sola scelta in campo si chiama popolo della famiglia andate ai banchetti firmate per il popolo della famiglia e fate una grande campagna elettorale in una legge che è proporzionale per il simbolo del popolo della famiglia per far conoscere il simbolo del popolo della famiglia è l'unica maniera che abbiamo per fermare l'ondata mortifera con la chiama ester corona ora in diretta che altrimenti nella prossima legislatura ci travolgerà per questo stiamo facendo tutta questa fatica per questo negli ultimi 48 ore sono stato ad ascoli a cesena a rimini a ravenna per questo sto per partire perché domani sarò a san remo il bello è che a rimini ho parlato dentro una chiesa san remo parlerò con accanto il vescovo d'imperia e anche insomma un po' di chiesa sta cominciando a capire quanto di bello ci sia nel messaggio che sta consegnando il popolo della famiglia al paese e allora questo dà una forza in più qualche pastore tanti pastori cominciano ad essere vicini a noi mi arrivano bellissime fotografie da anche da monasteri da conventi dove 35 suore mi sono arrivate la foto l'altro giorno votano per il popolo della famiglia e fanno votare per il popolo della famiglia enzo bonzi dice sto aspettando che qualcuno mi dica in che dico la difenza si possa acquistare la croce la croce è un quotidiano digitale per abbonati caro enzo dunque lo ricevete nell'email sono otto pagine formato manifesto molto belle digitali così le potete portare sempre con voi con lo smartphone con tablet o con il computer bisogna abbonarsi www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora e con questa link potete anche iscrivervi al pdf se volete c'è un marketplace dove potete chiedere i libri di o capiamo moriamo di voglio una mamma testerarvi al pdf e soprattutto sostenere il quotidiano la croce con l'abbonamento leggendo poi tutte le notizie il quotidiano la croce è l'unico quotidiano che tutti i giorni ha l'editoriale di Gianfranco Amato piuttosto che il mio piuttosto che le cronache dal territorio del pdf se volete avere informazioni sul popolo della famiglia occorre essere abbonati al quotidiano la croce perché è l'unico quotidiano che tutti i giorni ha molti articoli ovviamente dedicati al pdf oggi la bella notizia che anche il quotidiano più importante letto di verona che si chiama l'arena ha una enorme pagina in cui c'è la pagina di politica il titolo boom di firme per il popolo della famiglia boom di firme perché ne hanno raccolte 505 lo ripeto in appena 6 ore in appena 6 ore fatemi fare ora un po di comunicazioni di servizio attenzione ci sono piccoli errori sui moduli sugli atti separati ogni tanto qualcuno mi dice ho scritto 1 0 1 in più 1 0 2 in più non vi preoccupate correggete semplicemente la quello che conta è l'atto principale l'atto principale è l'atto conclusivo l'ultimo che dovete compilare quello va compilato perfettamente intanto rispondo a maria verità boddi che dice perché non ci coalizziamo con la destra per presentarci se devo rispiegare questo non ci coalizziamo perché la coalizione ha elementi che ti costringono a un'ambiguità di fondo se ti coalizzi come è stato evidente nella legislatura precedente come è ancora più evidente oggi i tuoi voti nei collegi uninominali li porti per eleggere ho fatti i nomi eh maurizio lupi stefania prestigiacomo renata bolverini e c'è un renato schifani un elenco lunghissimo di decine e decine di personaggi che sono stati magari per finta vicino al family table hanno tradito e hanno votato a favore del la legge cirinna per esempio tutti hanno votato a favore del divorzio breve quasi nessuno ha votato contro le datt se tu sei coalizzato il tuo voto va ad eleggere quelle persone e noi non sosteniamo in nessuna maniera i traditori della piazza del family day l'unica maniera che abbiamo per cambiare questa situazione non sostenere con i nostri voti i traditori della piazza del family day e costituire le condizioni per una presenza parlamentare di persone a difesa di principi non negoziabili ed essenziali e candidarci da soli prendere i nostri voti non darli evidentemente a nessuno di quei traditori e condizionare nella prossima legislatura la formazione eventuale di una maggioranza di governo in cui noi entreremo solo se ci faranno fare subito il reddito di maternità e se potremo condizionare in termini determinanti il varo di qualsiasi legge contro la vita e contro la famiglia questo concetto è chiaro definitivamente a tutti lo chiedo a tutti coloro che sono in questo momento in diretta il perché non vi coalizzate con il centrodestra è chiaro a tutti ora allora lo ripeto ci sono non uno ma decine di parlamentari che sono stati con la pazza del family day hanno tradito si ricandida con centrodestra dei collegi nominali se noi fossimo coalizzati là con il nostro voto e rieleggeremmo loro d'accordo noi siamo contrari per scelta politica a riportare in parlamento chi ha tradito il popolo della famiglia riunito al circo massimo e a san giovanni per questo e solo per questo ci candidiamo in posizione autonoma per costituire un'alternativa politica pronta a collaborare eventualmente con maggioranze di governo per condizionarle siamo chiari io voglio che questo concetto sia chiaro ad ognuno di voi e venga portato con chiarezza nella battaglia politica che stiamo compiendo e questo è l'elemento determinante di questa battaglia non voglio sentire nessuno con il complesso di inferiorità nei confronti del centrodestra non abbiamo complessi di inferiorità non ci dobbiamo scusare sono loro che devono scusarsi con noi per il loro tradimento è chiaro a tutti allora io spero che questa domanda non arrivi mai più che tutti noi andiamo a fare questa battaglia i nomi ve li ho messi uno sotto l'altro con tutti i voti che hanno dato lavoro straordinario ha fatto in questo senso anche gianfranco amato i voti che hanno dato a sostegno della legge sul divorzio breve della legge sul sulle dat della legge ci rinna noi queste persone in parlamento con i nostri voti non le facciamo tornare noi ci prendiamo i nostri voti chi vuole votare centrodestra liberissimo faccia la sua scelta può fare quello che vuole si vende per un piatto di lenticchie amen ma noi facciamo una scelta di campo netta politicamente motivata incontestabile dal punto di vista valoriale e nessuno davvero osi mettere in discussione la buona fede del popolo la famiglia dei suoi dirigenti poi prendetevela con me ditemi di tutto continuate a inventarvi di tutto non c'è un problema come vedete qui c'è corazza eh dovete sparare ma tanto con i proiettili per riuscire a buttarmi giù per il resto sarò in battaglia come sapete con la determinazione che mi caratterizza ovunque in questo paese a darvi una mano arrivando in ogni angolo domani a sanremo sapete quanto è lontana da roma sanremo sì sono otto ore di macchina andare otto ore di macchina a tornare ma saremo lì saremo lì come sono stato ovunque in questi giorni ovviamente sacrificando tutto la famiglia silvia non sa più neanche come mi chiamo ha scritto ieri un messaggio tenerissimo mi manchi tantissimo e io ho detto mi manchi anche tu ma non come io manco a te mi ha scritto mi manchi davvero tantissimo ha scritto e vi assicuro quando arrivano quei messaggi e tu ti chiedi ma è giusto è giusto fare la battaglia per la famiglia e sacrificare la propria è giusto che ho visto mia figlia adesso stamattina mezz'ora adesso è andata a scuola e non la vedrò per la prossima settimana perché sto in giro ovunque e io me lo chiedo non crediate che tutto questo lo faccio a cuor leggero non sapete quanto manca a me fatemelo dire qua in diretta la mia famiglia e i miei affetti però il lavoro da fare questo e lo faremo lo faremo con la determinazione dei soldati che vanno in battaglia e come sapete i soldati quando vanno in battaglia abbracciano i propri cari e poi si va e si vede insomma speriamo di tornare vincitori da tutta questa lotta che stiamo compiendo ma non crediate che sia tutto semplice non crediate che sia semplice trovare ogni minuto un insulto nuovo una menzogna nuova una calugna nuova non sia facile non è facile beccarsi il fuoco amico perché sapete che hanno deciso che si punta su quello che sta davanti per abbattere tutto il gruppo però per fortuna voi siete un gruppo forte siete un gruppo molto spesso più forte di me e ogni volta che mi va giù la voce come tra poco accadrà inevitabilmente io dico sempre che posso smettere anche di esistere e non solo di parlare ma se smetterò di parlare grideranno le pietre e prima delle pietre voi ne sono certo ognuno di voi che parte di questa testuggine che è in battaglia vi chiedo davvero per dare una mano a una diretta che penso sia stata chiarificatrice di fare mi piace adesso a questa diretta condividi questa diretta sulla pagina del vostro profilo e invitate gli amici a seguirla perché come avete capito le cose che abbiamo detto oggi sono cose che possono essere molto utili credo per la riflessione politica complessiva del popolo della famiglia spero di essere stato chiaro e definitivamente spero che le parole siano state sufficienti mi scuso se qualche volta vado su di tono ma la passione mi porta a fare questo poi la pago perché sentite già la voce che si arrochisce e fa sì che io non possa magari ecco essere al massimo ho fatto ad Ascoli mi scuso con gli amici di Ascoli ma una serata tutta afona e alla fine della serata afona ho dovuto fare un'intervista alla tv locale che credo sia venuta proprio con un pesce che parla perché non c'avevo più niente nella corda vocale per far emergere i miei pensieri saluto anche Nicola Di Matteo che sta facendo un lavoro straordinario in Sicilia grazie al nostro coordinatore nazionale che ha arato letteralmente ogni angolo della Sicilia è ora in battaglia per strada come ci dice in diretta ringrazio Pier Giorgio Casaccia che dice in Ascoli sei stato grandissimo siete stati grandissimi voi perché ad Ascoli sono stato veramente accolto in maniera incredibile Palazzo dei Capitani straordinaria, la Pazza del Popolo, la Sala Strapiena tantissime persone in piedi che non hanno potuto neanche trovare un posto a sedere e io invece ho offerto una performance diciamo così vocalmente almeno mediocre perché non avevo proprio più una goccia di voce però non ho voluto mancare a quell'appuntamento e sono stato lieto di essere arrivato in quel di Ascoli e di aver avuto quella serata così bella che ho portato avanti fino alla fine delle energie che davvero erano poche Emilio Sasso dice hai ragione quando attaccano te attaccano anche noi non hanno capito a cosa siamo disposti urleremo finché avremo voce ecco vi chiedo quando arrivano questi attacchi di difendermi perché difendere me significa difendere il popolo e la famiglia farlo con le spiegazioni che credo di aver dato in maniera molto netta, razionale, incontestabile in questa puntata è un modo per essere efficaci perché sono dati inoppugnabili lo ripeto, dati inoppugnabili Mirko De Carli saluto anche lui una fatica enorme sta facendo anche lui ora è in lotta da potenza picena saluto Mauro Turrini dice quando ci contestano il nostro leader dobbiamo affermare che noi vogliamo mandare in Parlamento i nostri diritti i nostri valori non negoziabili questo è ciò che conta sì, non dimenticatevi pure del leader ogni tanto difendetevi perché questo aiuta pure il cuore poi al di là di tutto vedere che qualcuno vi difende ogni tanto mi aiuta anche a sopportare meglio la fatica di essere esposto ad attacchi continui e sul personale che veramente fiaccano qualche volta le energie però come capite insomma poi come la voce si riprende e si torna alla battaglia più forti di prima ecco dice Anna Luciano non mogliamo perché ci dobbiamo fare forza a vicenda questo è il lavoro farci forza a vicenda come nella testuggine lo ripeto sempre uno a fianco all'altro se uno è debole cioè quello a fianco con lo scudo sopra lo scudo davanti a difendere anche il suo momento di debolezza noi siamo fatti così Nicola Di Matteo ringrazia tutti i siciliani per le liste chiuse da oggi si parte con la raccolta firme un grazie particolare a Salvatore Asero e alle mogli ovviamente a Giovanna Arminio a Corrado Saloni a tantissimi che si stanno spendendo sul territorio siciliano Danilo Leonardi sta coordinando la raccolta firme oggi si firma a Via Veio da giovedì 18 a Via Veio 38 oggi invece io sono a Latina per chi volesse ad Aprilia anzi Aprilia provincia di Latina ad Aprilia all'hotel Enea mi pare si chiami alle ore 20 e 30 sono lì per l'iniziativa del collegio del Lazio Sud quindi chi volesse chi è della zona diciamo così vuole venire a firmare per le liste del popolo della famiglia ci troviamo oggi all'hotel Enea di Aprilia è il collegio che parte diciamo da Ostia al Fiumicino e va tutto il Sud del Lazio quindi venite tutti quelli che vengono di quella zona possono venire a firmare oggi a Aprilia hotel Enea ore 20 e 30 invece il 18 dico sempre per i romani i romani hanno un lavoro particolare perché la città è divisa in tre collegi diversi bisogna vedere dove abita insomma è un lavoro che veramente Danilo Lonardi Guido Pialeselli il team dei romani Mauro Rotunno sta facendo con una fatica in mane superiore a quella delle altre città lo ripeto perché la città di Roma è divisa per vie quindi non basta essere romani devi sapere in che via abiti collocare la via nel collegio giusto è un lavoro incredibile si firma a Latina cioè ad Aprilia con Sabrina Bosu che è la nostra capolista alla Camera per il collegio Lazio 1-03 Roma Nord dove si firma chiede Giusy Casiello si firma a a Via Veio 37 giovedì 18 siete invitati tutti a venire a firmare per i romani chi è di Roma venga a firmare a Via Veio 37 giovedì 18 vi pare dalle 19 e 30 se non sbaglio invece per gli Umbri sabato 20 dalle 9 alle 12 e 30 si firma a Pian di Massiano a Perugia Danilo Donati ricorda a Via Veio 37 per la raccolta firme dei romani il 18 giovedì sarebbe giovedì prossimo venerdì io consegnerò il nostro simbolo al Viminale sarà l'avvio l'avvio della procedura elettorale la consegna simboli e dal 19 saremo formalmente in campo Mauro Chialassi urla i certificati elettorali cosa vuol dire questo urlo i certificati elettorali spiega bene Mauro così capiamo meglio Massimo Santarossa dice Pordenone dove e quando rivolgersi a Lanfranco Lincetto che è vice sindaco di Cordenonzi in provincia di Pordenone e lì potete sapere dove si raccolgono firme in Friuli Ilaria Giurlani dice l'accorta firme a Lido di Camagliore al mercato di fronte al Pontile oggi oggi stamattina dunque Danilo Donati ricorda di portare anche la tessera elettorale non il certificato elettorale di portare vale solo per i romani questo eh documento e tessera elettorale Giovanni Mazzotti è andato a autenticare la firma per la candidatura nelle marche Alberto io non ho pronunciato neanche quel nome quindi io non ho punzecchiato nessuno io sto dicendo delle cose che riguardano il popolo e la famiglia e non ho citato volontariamente nessuno in maniera che nessuno si senta offeso chi si sente offeso ha la coda di paglia saluto Meri Rossi che dice certificati elettorali con godimento elettorale non semplice certificato Meri Rossi allora la cosa precisa è che quando andate da candidati a chiedere da candidati a chiedere il certificato elettorale chiedetelo per candidatura eh per candidatura basta spiegarlo la cosa ti serve per candidatura non a uso interno per la candidatura alle elezioni politiche poi loro vi daranno il certificato adatto saluto anche Vittoria Polacci che porterà i moduli stampati al Lido di Camagliore saluto Monica Consigliere che dice posso mettere la firma domani a Sanremo non mi ricordo dove ti siedi Monica quindi non so se puoi firmare sicuramente ti porteremo la tessera di iscritta al popolo e alla famiglia che hai appena fatto pur vivendo all'estero grazie davvero saluto Gloria Callarelli Felice Liccardi Dario Greco Emanuela Pongiluppi che sempre così precisamente dal coordinamento editoriale scrive con dettaglio quello che dobbiamo avere come certificato di iscrizione alle liste elettorali ripeto dite per la candidatura così vi daranno quello adatto i candidati devono portare certificato di iscrizione alle liste per candidatura servono sei copie ognuno ci ricorda Danilo Leolardi per quanto riguarda Roma che ha diciamo così una condizione particolare domani a Novara ci informa Alessandra Mondelli capolista al Senato incontro di presentazione di tutti i candidati del Piemonte insieme con Gianfranco Amato quindi domani a Novara con Gianfranco Amato grazie a Pierina Lugaresi che dice sei stato grande ieri a Cesena sono stato solo grosso grandi se siete stati voi a avere una sala piena all'inverosimile anche là con la fila per raccogliere le firme un abbraccio a Gloria Vescovi una preghiera per lei perché è stato che sta affrontando un momento con le sue difficoltà e le sue gioie e noi preghiamo per le sue difficoltà un saluto a Gloria Vescovi Marco Buono ricordo a tutti firme 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 poi sotto i cenacoli familiari fino al 4 marzo saluto Emanuele Lobue altro colonna nel nostro lavoro in Piemonte con Angela Ciconte che invece sta facendo un lavoro straordinario sulla Calabria grazie davvero a tutti voi stasera a Novara con Gianfranco non è domani? penso che domani c'è la conferenza stampa di presentazione stasera c'è un'iniziativa domani la la conferenza stampa di presentazione saluto ciascuno di voi saluto tutti coloro che vorranno dare una mano al popolo e alla famiglia spero che questa diretta vi sia piaciuta e allora fate mi piace alla diretta spero che abbiate capito che è importante che sia condivisa cioè che la vedano più persone possibili pure se io sono in ombra ma almeno c'è la luce che è promana come vedete dall'angelo e dal crocifisso è importante che la vedano tutti questa diretta perché abbiamo detto delle cose chiare quindi condividetela sul vostro profilo intanto saluto Claudio Iacono il nostro leader Umbro che è candidato capolista e invitate anche agli amici di a venire a seguire questa diretta in questo momento sappiate che stando su PDF TV alle ore 10 come ci informa Emanuela Pongiluppi c'è il debutto di Silvana De Mari come sapete Silvana De Mari è la prima pensata come nostra capolista poi ha avuto problemi anche di salute e ha preferito non affrontare questa fatica che è enorme e lo capisco perfettamente abbraccio Silvana Silvana ieri è venuta a firmare le nostre liste in Piemonte dimostrando ancora una volta l'attaccamento al popolo della famiglia e dunque noi la ospitiamo da oggi alle 10 su PDF TV proprio per rinsaldare questo nostro rapporto con Silvana De Mari che era già saldo ma anche lì qualche male lingua aveva provato a mettere zizzagna e invece è stato fatto un lavoro preciso con Silvana che ha firmato le nostre liste Silvana che è ora in diretta ripeto dalle 10 su PDF TV ed è a sostegno della nostra lotta con la sua originalità le sue idee e con la sua autonomia e facendole sempre il nostro in bocca al lupo anche per le questioni di salute che riguardano lei e la sua famiglia un abbraccio ad Antonio Casini altro grande combattente candidato al Parlamento qui nel Lazio Silvia Lodatice sul certificato c'è scritto rilasciato per procedure elettorali non sempre non in tutti i comuni quindi voi fatevi rilasciare il certificato elettorale che serve per candidarsi alla Camera e al Senato ditele così al funzionario comunale che sicuramente comprenderà PDF TV come si vede chiede Pier Giorgio Casaccia basta andare sulla pagina Popolo della Famiglia TV e su quella pagina potete seguire tutti i programmi di PDF TV ora siamo arrivati al limite orario di questa puntata io ringrazio davvero tutti voi è arrivato anche Mirko Fanizzi nostro capolista insieme a Enzo Fortunato Nicola Quatella tanti amici in Puglia abbraccio anche a Mirko Fanizzi saluto Damiano Toppi che racconta Casini candidato del PD a Bologna capito un una un seggio sicuro che fa fa i compagni devono votarsi Casini e Casini si vota e si fa portare in Parlamento dai compagni e poi quelli sono i rappresentanti del voto cattolico vabbè lasciamo perdere lasciamo veramente perdere grazie a Damiano Toppi che ha ricordato questa notizia che è oggi sui giornali ed è davvero un altro degli elementi surreali poi qualcuno viene a fare la pratica a noi questa è una cosa divertente grazie a tutti per la puntata di oggi spero che sia stata utile spero che sia stata importante per la crescita di consapevolezza del popolo della famiglia Antonio Casini ci tiene a dire non sono io il candidato di Bologna lui è candidato col popolo della famiglia in effetti è così Antonio bravo la ottima battuta saluto Luca Barra il nostro candidato di Ciree giovane candidato bellissimo gruppo Achille Re Luca Barra fino a Don Damiano Cavallaro Don Salvatore Vitiello persone straordinarie che stanno dando una mano enorme al popolo della famiglia ringrazio Silvia Lucchetti Silvia Lodà la bellissima Francesca Patuzzi che dice Casini un vero migrante vero saluto Monica Vitali che dice non conoscono vergogna è così non conoscono vergogna andiamo avanti c'è anche Barbara Moi che viene a dare il suo sostegno un abbraccio a tutti davvero ci vediamo domani a Sanremo per chi è in quel della Liguria oggi per firmare le liste Ostia Fiumicino Latina Frosinone tutto il sud del Lazio ci vediamo invece a via via non lo so Hotel Enea ad Aprilia in provincia di Latina alle 20 e 30 Giovanni Pecora chiede dove ci possiamo firmare in Calabria per la Calabria rivolgersi a Angela Ciconte la trovi facilmente qui su Facebook una delle altre non solo la nostra capolista al Senato in Calabria ma anche una delle conduttrici di Popolo della Famiglia TV ecco qui è arrivata Angela Ciconte così può mettersi subito in contatto con Giovanni Pecora grazie a Cinzia Gioia a Emiliano Velasco a Silvia Indiati la via di stasera è via del commercio grazie Silvia per la precisazione Hotel Enea via del commercio saluto Sabino Sabini grazie per il lavoro che fa il gruppo preghiera e sostenete Marco Fasulo nel suo lavoro in Basilicata caro Sabino è importante sostenere il suo lavoro quasi solitario ma importantissimo la candidiamo anche un disabile che si chiama Vincenzo è capolista al Senato sarebbe bellissimo portare un disabile in Parlamento a grandi difficoltà di parola di movimento sta su una serie a rotelle ma è un simbolo della nostra battaglia e dunque sarebbe bellissimo che la Basilicata potesse esprimere un parlamentare oltre alla stessa moglie di Marco Fasulo quindi raccogliamo per favore diamo una mano alla raccolta firme in Basilicata di Marco Fasulo Tina Baldaci informa che a Trieste raccogliamo firme il 18 dalle 18 alle 19 in via Pascoli 1 mettete durante le mie dirette tutte le informazioni su quello che ritenete qui in maniera che possano essere lette da molte persone e allo stesso tempo fate il mi piace alla diretta condividetela sul vostro profilo e invitate gli amici a seguirla affinché le risposte sulle tante menzogne che riguardano il popolo e la famiglia per cercare di mettere i bastoni tra le ruote a un popolo siano travolte dai fatti e siano anche travolte dai nostri numeri che sono numeri decine di migliaia di militanti in battaglia che sono in questo momento alle prese con una difficoltà tecnico-formale enorme ma che le stanno superando con il sorriso brillantemente perché noi siamo popolo non una piccola lobby non l'abbonino che deve chiedere l'esenzione dalle firme se non si presenta al Parlamento noi siamo in grado tranquillamente di prenderne a decine di migliaia a decine di migliaia per far arrivare il simbolo del popolo della famiglia sulla scheda elettorale in questi giorni preghiamo con la raccolta di firme ogni firma una ave maria dice Danilo Lonardi davvero preghiera e azione ora et labora per fare un lavoro davvero straordinario Emilia Aurino mi chiede a Verona chi si candiderà c'è tutto il team di Filippo Grigolini lo ripeto leggi anche l'arena di Verona di oggi e scopriai tutta la squadra del popolo della famiglia di Verona cara Emilia perché oggi siamo anche grazie allo straordinario boom di firme questo è il titolo del popolo della famiglia a Verona anche sull'arena di Verona ben raccontati e ben citati l'hotel Enea per stasera alle 20.30 è vicino al centro commerciale Globo per chi avesse bisogno c'è Giovanni Fiori dice speriamo che tenga il tempo perché saremo per strada a raccogliere le firme quindi speriamo davvero ci sia una giornata per prendere tante firme ringrazio Giovanni Fiori lo riconosci quel crocifisso che oggi è lì caro Giovanni accanto al all'angelo ecco grazie davvero Giovanni grazie a te grazie a tua moglie grazie alla tua famiglia grazie alla tua fede grazie di essere nostro capolista non saprei per ognuno di voi dovrei dire un milione di grazie per l'affetto che dimostrate per la fede che trasformate in opera in azione e per le vostre persone perché siete davvero una per una vi conosco ormai davvero uno per uno persone bellissime grazie davvero da Maria Di Nolfi una preghiera per me quando vi capita ci vediamo spero domani mattina anzi no perché devo partire per Sanremo quindi non ce la farò è lunga per Sanremo sono 700 km e quindi domani non c'è stampa e vangelo perdonatemi domani non ci sarà la puntata di stampa e vangelo ci rivediamo quando potrò farla in condizione diciamo così di stabilità per il resto sto purtroppo o per fortuna in giro per l'Italia dal primo mattino alla sera tardi per realizzare questa enorme impresa che insieme a tutti voi far arrivare intanto il simbolo sulla scheda e poi far votare un milione di italiani per il popolo della famiglia forza popolo della famiglia a noi la battaglia addio la vittoria la madre di Nossi una buona giornata a tutti